Bene, grazie Alessandro per questa lettura tutto tranne che parziale, secondo me. Le sollecitazioni sono molte, il tempo un po' di meno. La parola al nostro curatore Silvio Pons. Non c'è molto che io debba dirvi. Io vorrei innanzitutto ringraziare i redatori che si sono impegnati nella lettura di un volume non facile da presentare per il carattere composito e non soltanto dal punto di vista tematico ma anche dal punto di vista metodologico, diversi approcci possibili. Sono in profilo storiografico. Quali sono le cose che tengono insieme questo volume? Credo che questa presentazione lo abbia dimostrato abbastanza bene. Non devo ripetere le cose che sono già state dette. Mi ricordo di una battuta di Donald Sassone circa vent'anni fa quando aveva fatto il convegno che poi ha generato un volume che si intitolava il PC nell'Italia Repubblicana. è stato anche ricordato. Donald disse ma io ancora non ho capito tanto bene perché sia stato scritto così tanta letteratura su un partito che in fondo non ha mai governato e quindi non è così interessante. forse questo volume può essere una risposta a quella. Intanto nei vent'anni successivi le persone anche di generazioni nuove come ricordava Patrizia hanno continuato a scrivere su questo strano animale del passato. addirittura di un passato archeologico così sembrava almeno fino a un paio di mesi fa. ma in realtà forse il volume è una risposta da offre cioè studiando la storia del comunismo italiano si incontrano o si mettono a fuoco o comunque tangenzialmente si toccano una enorme quantità di temi storia del novecento. e in fondo diciamo credo che questo sia molto modestamente l'obiettivo naturalmente tutto da dimostrare che sia stato raggiunto in tutti i suoi aspetti possibili immaginabili cioè quello di affrontare il comunismo italiano come un caso di studio di non soltanto della storia del comunismo globale. questo certamente sì ed è anche un modo un approccio questo che permette di mettere bene in luce quali sono le particolarità del comunismo italiano ma anche rispetto alla storia nazionale e internazionale. l'invito è quello di non separare queste due dimensioni mi sembra che questa è una cosa che era enunciata nel convegno di vent'anni fa forse questa in questa esperienza diventa più praticata di allora ma questo non è un merito soltanto degli autori tanto meno del curatore ma il fatto che la storiografia è andata è andata molto molto avanti. naturalmente parlo di comunismo italiano non a caso un po' meno parliamo di partito comunista perché perché il tentativo di volume è quello di affrontare la storia politica di riproporlo anche il senso e l'importanza della storia politica però attraverso sui possibili plurime declinazioni e non la storia dei partiti in quanto storia autoreferenziale diciamo così ma su questo non devo non devo dire molto forse uno dei temi su naturalmente appunto ciascuno degli autori ha scelto i suoi temi e ha scelto le sue interpretazioni la forza del volume credo si può dire sta fatto di avere chiesto di scrivere 20 pagine sul tema sul proprio tema ad autori che hanno alle spalle una forte esperienza di ricerca è un modello che resta abbastanza consolidato nella storiografia soprattutto anglo americana meno in quella italiana ci sono tante domande comuni alcune sono state ricordate altre le ho appena sottolineate forse una delle domande che sono comuni è quella appunto della della lunga durata del comunismo italiano al di là delle fratture delle discontinuità al di fuori delle auto narrazioni di pure semplice continuità però questo tema certo la lunga durata nel secolo breve non mi ricordo più chi di voi lo ha sottolineato certamente sì poi c'è il tema dell'eredità che non è un tema niente affatto banale ma nella storia dei movimenti politici del novecento la storia del comunismo in particolare esiste una dimensione di lunga durata del 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 pc nel senso che questo soggetto politico è sopravvissuto o comunque ha dimostrato una sua formidabile capacità e vitalità rispetto al momento ai momenti storici che sono ben individuati oggi nella storiografia internazionale qui nei quali il comunismo inteso come soggetto mondiale modernità alternativa internazionalismo senza aggettivi a rivoluzionario post rivoluzionario ha cominciato a mostrare la corda diciamo ha conosciuto processi più o meno prematuri diciamo così di declino no ehm penso in particolar modo alle alle scissioni tra tra sovietici e cinesi ma penso anche al fatto che il 68 globale sia stata una ehm un movimento complesso in cui i partiti comunisti non hanno svolto nessun ruolo veramente significativo con l'eccezione di quello italiano e così via no cioè c'è una capacità del del comunismo italiano di dare le risposte naturalmente poi sul fatto che queste risposte avessero una loro coerenza e capacità effettiva di impatto questo tutto un altro discorso però di fornire risposte anche alla grande trasformazione del dell'epoca dello shock globale come come dobbiamo come la chiamiamo oggi cioè gli anni settanta e quello che viene conseguito qualcuno potrebbe dire che il comunismo italiano era già finito allora però questo sarebbe un argomento un po' polemico legato alle vicende del tempo e anche alle biografie dei singoli in realtà come dimostrare non so un evento come i funerari di berlinguerto insomma il comunismo italiano non era finito no ma è certamente era esistenzialmente legato però ad un movimento globale che stava finendo che era già finito in alcuni suoi fondamenti e questa è una grande questione storica come si spiega questa lunga durata non devo dire io leggere il volume forse qualche cosa di più si può capire c'è un rapporto naturalmente con la cultura politica e con le peculiarità della cultura politica di gruppi dirigenti ad alta vocazione intellettuale che si susseguono nel tempo e anche implodono e in conflitti intestini nel tempo eppure diciamo questa cultura politica mantiene una sua caratterizzazione nazionale nel corso del tempo il progetto del partito di massa togliattiano è parte sostanziale ed è un po' di elementi fondativi di questa lunga durata questo può essere un'ottica ci sono le altre ottiche come quella della diciamo del delle narrazioni eccezionaliste che furono proprio sia dei protagonisti dell'epoca in parte anche della storiografia in una certa misura eccezionalismo legato alla storia italiana legato alla presenza del cattolicesimo politico in italia le particolarità dell'anticomunismo cattolico e così via e poi c'è anche l'ottica viene in mente non è quella del che anche è stata ricordata di quello che si può chiamare il comunismo riformatore e di come nella primavera di praga stavo per dire il mito della primavera di praga ma insomma di questo si può discutere abbia un prodotto dei cambiamenti nella cultura politica dei comunisti non soltanto tra i comunisti italiani ma certamente il comunismo italiano è stato probabilmente il soggetto che ha più prodotto cambiamento che ha più dialogato e ha assimilato i cambiamenti generazionali sociali culturali dell'epoca il che ci pone una serie di interrogativi anche rispetto ad alcuni degli approcci molto importanti ci sono del libro penso per esempio tutta la questione delle mitologie comuniste a un certo punto vengono meno questo si vede molto bene come incida sulle vicende sulle capacità identitarie di investimento identitario di altri partiti comunisti ma molto meno invece nel caso del comunismo italiano europeismo è un certo tipo europeismo fa parte parte sostanziale ma si potrebbero fare altri esempi sono stati fatti di questo di questo cambiamento e qui si entra già sul terreno dell'eredità cioè è una frase che viene attribuita a gorbaciov non so se sia vero in cui lui avrebbe detto dai comunisti italiani ho imparato che bisogna cambiare se stessi se vogliamo che cambino anche gli altri poi la cosa non è finita bene diciamo ma questo questo anche perché gli altri sono cambiati più di tanto questo ce lo ricordano anche gli eventi degli ultimi degli ultimi due mesi e tuttavia questo è credo il senso profondo di questa storia di questa realità io ringrazio veramente di essere stati presenti grazie a tutti grazie davvero a tutti grazie anche alla casa editrice viella che questo libro non lo ha soltanto pubblicato ovviamente me l'ha seguito con molta attenzione nel corso di tutta la sua lavorazione come dico come consueto per la che per questa casa editrice noi abbiamo finito qui vi saluto e vi rimando alla prossima iniziativa al prossimo evento della fondazione che sarà la presentazione del volume di simona colarizzi passate presente che si sarà il 6 maggio prossimo a quest'orario grazie mille grazie mille grazie mille